Gioveni avventurieri a rapporto, perché oggi siamo qui con un SUV da veri avventurieri, stiamo parlando proprio di Jeep Compass. In questa versione 1.6 di cilindrata, 120 cavalli, con il motore diesel di ultima generazione, dagli ottimi consumi e dalle ottime emissioni, con allestimento business, fa parte delle nostre a chilometro zero, auto già immatricolate ma mai utilizzate, e la troviamo con questi cerchi in lega a 5 razze, le barre al tetto e le cromature lungo la vettura, i gruppi ottici con fari alogeni e gli interni in pelle con inserti in tessuto, bellissimi, super morbidi, comodi, anche un poggio a braccio con due porta bicchieri al centro, le tasche porta oggetti. A bordo notiamo un ricchissimo infotainment, partiamo dal volante con i comandi per le chiamate e il cruise control integrato, impossibile non notarlo subito lo schermo touch 10 pollici, con radio DAB, i media per poter connettere il dispositivo tramite bluetooth, il clima gestibile sia dallo schermo touch che dai classici comandi, è bizona e automatico. Abbiamo poi Uconnect con tutte le sue applicazioni, il navigatore e il bluetooth come già detto per il telefono per effettuare le chiamate, poi tutte le impostazioni del sistema di infotainment, presa USB per connettere il nostro smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto, inserendo la retro vediamo che si attiva subito la retrocamera con i sensori di parcheggio, abbiamo lo stop and start, l'antipattinamento e il line assist come assistenza di guida, con l'anticollisione con la frenata d'emergenza attiva, un pozzetto centrale porta oggetti che fa anche da poggio a braccio e tutto lo stile di Jeep Compass. Il bagagliaio non poteva che essere abnorme tanto quanto la vettura, in questo verde oliva, chilometro zero, è davvero un'offerta da non lasciarsi scappare. Riservatela subito andando su rattiauto.com, il link è in descrizione. Vi bastano solo 100 euro per 14 giorni, avete tempo di pensarci, anche se guardandola sinceramente io mi sarei già fatto un'idea. È davvero un ottimo SUV, super di tendenza in questo 2020 insieme alla sua sorellina Jeep Renegade. La trovate qui da noi in showroom in pronta consegna. Ricordatevi poi che prima di esservi consegnate le auto vengono lavate e igienizzate nuovamente, visto che già viene effettuato il lavaggio al loro arrivo. Scoprite tutti i nostri servizi su rattiauto.com, come i finanziamenti online, la consegna a domicilio, la valutazione dell'usato, garanzia maffre e tanto altro. Prontate un appuntamento, venite a trovarci. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao Rattilover! Noi ci vediamo alla prossima.